Caro Giampaolo, come va? Molto bene, grazie. Bene, lo sto leggendo, ho in mano il listino. Sì. E effettivamente questo slogan al cinema è sempre Natale, nella sua semplicità dice tutto. Sì, è un listino che appunto nel suo titolo e nella veste grafica che presentiamo qui a Sorrento è un listino all'insegna del Natale, delle feste. Il Natale è passato perché ci ha regalato il migliore incasso italiano con amici come prima, con la coppia Massimo Boldi e Grecian De Sica che si è rimessa insieme per quel film. Un listino all'insegna del Natale presente perché avremo una doppietta ai massimi livelli con il nuovo film di Ficarra e Piccone, il primo Natale, in uscita il 12 di dicembre e l'attesissimo super evento Tolo Tolo di e con Checco Zalone ed anche un'anticipazione di quello che sarà il Natale dell'anno prossimo con il seguito, possiamo dire, delle avventure della famiglia protagonista di Dieci giorni senza mamma con Fabio De Luigi e Valentina Rodovini che incontrerà Babbo Natale. Un Babbo Natale molto speciale che sarà Diego Abbatantuono e quindi saranno Dieci giorni con Babbo Natale. E poi io ci leggo anche un passaggio di sentimento nel fatto che al cinema sia sempre Natale perché al di là della festività in sé però Natale è associato a gioia, a commozione, ha una serie di sentimenti che poi sono gli stessi che... Di emozioni. Di emozioni che giustamente uno ritrova al cinema in qualunque storia va a vedere. Sì, sì. Beh, insomma, andare al cinema anche vedendo qualunque genere di film è sempre una festa, è sempre un'emozione sia che ci si commuova, che si abbia paura, che si rida, che si sorrida, che si rifletta in tutte le sfumature di tutti i generi dei film. Quindi anche per questo abbiamo voluto dare questo titolo al cinema è sempre Natale perché comunque è una festa, è una festa delle emozioni ed è un momento in cui anche interrompiamo, mettiamo in pose un po' la frenesia del mondo in cui viviamo tra smartphone, tablet, lavoro, telefonate, whatsapp e quant'altro, almeno si spera nell'ora e mezza, due del film. Però ecco, la sala ricrea quella magia unica anche di sospensione nel tempo e nello spazio che solo appunto la sala cinematografica sa ritrovare ed è un bel regalo che magari non solo a Natale tutti quanti noi spettatori ci dovremmo fare più spesso. Quindi è il nostro augurio ma anche il nostro regalo per gli spettatori. Ora faccio una domanda che anche se non sembra è ingenua. C'è qualcosa di tolo tolo che potrei sapere adesso in questo frangente che non dirò a nessuno? Guarda, se mi dici che non lo dirai a nessuno mi fido e quindi ti racconterò il film. Scherzo, ovviamente. Non potrei mai, non posso assolutamente, però è chiaramente il film più atteso, l'evento più atteso da ormai quattro anni. È arrivato il primo gennaio. Gli spettatori sarà il regalo per le feste di Checco Zalone. Sì, in effetti sto riflettendo perché anch'io lo aspetto in un modo diverso, proprio al di fuori del mio ruolo professionale. È pazzesco questo messaggio che lui passi nel senso suo malgrado. La sua faccia dice tutto, non so, vederlo sullo schermo, ma com'è il film comunque? Bellissimo, bellissimo, divertentissimo. Non ne dubita, va bene. Pazzesco. Grazie mille, in bocca al lupo, ci vediamo in sala.